Ci troviamo alla scuola per l'infanzia Calvino di Terranuova, nel giardino Sindaco Chienni. Il concetto che credo vi abbia portato a installare questi giochi inclusivi è che tutti i bambini devono essere in gatto di giocare. Assolutamente sì, il principio è proprio questo, perché in genere, spesso e volentieri, purtroppo si pensa solo ai bambini normodotati e non a chi ha ridotte capacità motorie e che ha uguale diritto, anzi forse ancora di più, di poter giocare con i propri compagni. E quindi da questo punto di vista abbiamo iniziato un percorso di fatto qui alla scuola dell'infanzia con la realizzazione sostanzialmente di una pavimentazione con la gomma colata, che serve per poter percorrere agilmente il giardino e fra l'altro è anche gomma antitrama, quindi è utile per tutti i bambini. Dall'altro lato con l'installazione intanto di un gioco inclusivo, cioè che permette di giocare insieme ai bambini normodotati e ai bambini diversamente abili e però questo, dicevo, quello che mi preme è che è solo il primo passo, nel senso che la nostra idea è quello di mettere a breve un altro gioco inclusivo proprio qui alla scuola dell'infanzia, dopodiché spostarci nelle altre aree del nostro territorio, a partire dal parco pubblico attrezzato, che è quello maggiormente frequentato dalle famiglie e quindi anche dai bambini. Ecco, piano piano vorremmo che questo tipo di filosofia e questo principio venisse applicato concretamente in quasi tutte le nostre aree di gioco.